buongiorno mi chiamo nicoletta bonanno e frequento liceo scientifico esemberger di monza e sono della classe quinta bl il mio tutor scolastico la professoressa roberta sofi mentre i miei tutor dell'osservatorio sono la dottoressa maria rosa panzer agnese mandrino il progetto pct o a cui sto lavorando si chiama e velius dall'antico al moderno e ho avuto l'occasione di leggere l'articolo l'abbraccio fatale di una coppia di nostri di cui uno degli autori è appunto roberto serafinelli che oggi andremo a intervistare salve roberto grazie per essere qui con noi ciao ho letto con molto interesse questo articolo e vorrei porle qualche domanda riguardo e inoltre però vorrei anche specificare che questa non sarà l'unica intervista su questo articolo ma infatti è una serie di puntate in cui intervisteremo anche altri due coautori ok allora se per lei va bene iniziere con le domande la prima domanda è cosa sono i buchi neri super massicci e di cosa parla questo studio allora varie evidenze osservative raccolte in decine di anni durante vari studi di diverso tipo mostrano che la maggior parte se non addirittura tutte le galassie contengono al proprio interno un oggetto misterioso di dimensioni fuori da ogni immaginazione si tratta per forza di cose di buchi neri perché oggetti così grandi possono essere solo buchi neri e portano con sé un mistero se vogliamo di questi buchi neri noi li osserviamo sia relativamente vicini alla nostra galassia sia a distanze veramente enormi e come come si sa distanze enormi significa guardare anche molto indietro nel tempo esistono buchi neri di masse molto elevate già pochi milioni di anni poche centinaia di milioni di anni dopo il big bang e questo è un po' un mistero perché comunque un oggetto così così grande l'universo deve essere in grado di costruirlo e come è possibile che questi oggetti si formino così rapidamente ci sono varie ipotesi e che non è detto che si escludano che si escludano a vicenda tra loro una delle quali è che nel corso del tempo buchi neri di dimensioni più piccole mano a mano si scontrino tra di loro formando buchi neri via via più grandi questo avviene probabilmente avveniva più spesso all'inizio dell'universo perché l'universo era più piccolo e di conseguenza i buchi neri erano più vicini tra loro e adesso invece che intorno ai buchi neri super massicci si sono sviluppate le galassie sono processi molto più lenti molto più rari ma molto più energetici cioè coinvolgono l'intera galassia due galassie arrivano a scontrarsi e tramite vari processi dinamici anche molto complessi i due buchi neri che si portano dietro a un certo punto si porteranno in una posizione molto vicina tra loro a un certo punto entreranno in orbita l'uno dall'altro cioè la trazione gravitazionale tra questi due oggetti è tale per cui rimangono legati si dice nel gergo quindi cominciano a girare l'uno intorno all'altro e tramite vari processi tra cui l'emissione di onde gravitazionali si avvicineranno tra loro perché aumentando la velocità diminuisce diventano più vicini la trazione gravitazionale più forte quindi perdono momento angolare e si avvicinano e poi l'emissione di onde gravitazionali e a un certo punto della loro evoluzione questi due buchi neri arriveranno a toccarsi e a formare un buco nero che che sarà più grande non esattamente la somma delle loro masse ma poco meno e questo processo è molto importante perché via via formerà buchi neri più grandi e che quindi è una parte importante dell'evoluzione non solo dei buchi neri ma anche delle galassie che si portano dietro e il nostro studio diciamo si è occupato di andare a guardare lo stato immediatamente prima che questi due buchi neri si tocchino in cui abbiamo due buchi neri in orbita tra loro intorno a questi due buchi neri ci sarà del materiale ovviamente i buchi neri non emettono luce perché sono appunto buchi neri però il gas che si trova intorno cadendo nel buco nero emette della luce tra cui in particolare la luce a raggi X e in una situazione in cui questi due buchi neri stanno ruotando l'uno intorno all'altro l'andamento nel tempo della luce X ha un suo tratto caratteristico che è quello di noi nel gergolo chiamiamo segnale periodico che vuol dire vuol dire che il segnale sale scende sale scende come una sinusoide insomma e diciamo una delle possibili ipotesi la più diciamo credibile a un comportamento del genere è quella che dietro a questa emissione periodica ci siano due buchi neri che girano l'uno intorno all'altro quindi quello che noi abbiamo fatto è stato prendere un catalogo di questi disorgenti che sono state si dice monitorate cioè osservate regolarmente per una decina d'anni diciamo dal 2004-2013 in cui venivano puntate regolarmente queste sorgenti dal telescopio e sono un migliaio di sorgenti di cui poi dopo abbiamo ridotto a quelle più luminose e selezionare con particolari tecniche di analisi dati quale di queste possibili sorgenti quale di queste sorgenti aveva un possibile segnale periodico e abbiamo trovata una che mostra un periodo di 35 mesi circa e mostra un periodo di 35 mesi al quale diciamo se uno utilizza chiaramente una semplificazione ma se uno utilizza le leggi di Keplero può risalire a quanto sono lontane tra loro e esce fuori che la distanza è frazioni di parsec un parsec sono circa tre anni luce qui parliamo di un centesimo di parsec quindi insomma distanze molto brevi circa mille volte la distanza tra la Terra e il Sole parliamo va bene grazie la seconda domanda è come influiscono sulla galassia oltre ovviamente al fatto che tutti i sistemi della galassia gli orbitiranno attorno dunque il rapporto tra buco nero e galassia ospite è simbiotico significa che evolvono insieme e non esiste l'uno senza l'altro si specula che qualche galassia possa esistere senza buco nero centrale ma è molto dibattuta la cosa diciamo in generale tutte le galassie hanno un buco nero perché evolvono insieme cioè le proprietà tipiche di una galassia che sono per esempio la massa della parte più interna non so se uno guarda le classiche foto di galassia spirale esistono i bracci a spirale c'è una parte più interna che si chiama bulge in inglese e questo la massa di questo di questa parte più interna e la massa del buco nero sono collegate da una legge ben precisa si dice che sono correlate e questo è strano perché il buco nero è una monetina da un euro diciamo mentre le dimensioni del bulge sono quelle di un pianeta è chiaro che risulta difficile pensare che senza un qualche effetto meccanico il buco nero centrale abbia una qualche influenza a queste distanze che in proporzione sono gigantesche e si pensa che questo avvenga tramite appunto processi dinamici cioè che ci sia proprio uno spostamento di materia dovuto a dei denti dei denti che vengono provocati dal buco nero che influiscono a distanze molto più grandi del buco nero un processo che si chiama nel gergo feedback cioè praticamente il buco nero mangia più mangia più espelle e gli scontri tra galassie in cui poi dopo a seguito i due buchi neri formeranno un sistema binario gli scontri tra galassie in genere sono uno degli effetti scatenanti degli effetti scatenanti detto male uno scontro di galassie provoca questi perché c'è un tanto movimento di gas provoca questi venti che influiscono sulla galassia circostante grazie la prossima domanda è che interazioni presentano i due buchi neri tra di loro? uno dei due quello con massa maggiore assorbe energia dall'altro? allora innanzitutto noi non siamo in grado di stabilire quale dei due buchi neri è più grande dell'altro o addirittura non siamo neanche in grado di dire se c'è un buco nero più grande dell'altro in genere la cosa più semplice che uno fa è assumere che siano uguali il che probabilmente non è giusto perché è poco probabile che si formino due buchi neri esattamente identici anzi si pensa che la maggior parte dei sistemi binari che esistono e che noi non vediamo ce ne saranno tantissimi nell'universo siano formati da coppie di buchi neri con una differenza di massa tra i due piuttosto consistente da dieci in su addirittura cioè che ci esistano delle coppie in cui uno dei due buchi neri è più di dieci volte l'altro o non si sa si fanno tante ipotesi si tratta di cose estremamente difficili da vedere perché? perché tu non puoi osservare direttamente il buco nero i buchi neri osservati uno ce n'è uno solo che è stato osservato lo scorso anno no due anni fa da 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 EHT e e quindi e quindi non è possibile andare a vedere e capire quale dei due ha massa più grande se c'è una differenza di massa quello che si fa è osservare lo stato dinamico e l'emissione energetica di luce di questi oggetti e poi fare delle ipotesi in questo caso noi non eravamo in grado di farlo perché comunque vediamo una luce periodica siamo in grado di dire orbitano tra loro con questa velocità e dopodiché si può dire a che distanza si trovano ma è una quantità che dipende solo dalla somma delle masse non dalle singole masse di due buchi neri e le masse che noi ricaviamo sui buchi neri vengono da considerazioni di dinamiche diciamo dalla roba che gli gira intorno dalla velocità del del gas che gli gira intorno spesso che non permettono che permettono di dire in mezzo ci deve essere una massa di 500 milioni di soli diciamo ma non permettono di dirti se ce ne sono due quale è più grande e quale è più piccolo quindi noi assumiamo che questa massa che noi sappiamo esserci al centro sia la somma di due buchi neri cioè che i due buchi neri abbiano una massa totale pari alla massa che sappiamo essere lì in mezzo e poi utilizziamo come ho detto la terza legge di Keplero per determinare la distanza tra i due buchi neri una volta noto il periodo dalle osservazioni a raggi X ma non è proprio ancora almeno con gli strumenti attuali non è proprio ancora pensabile di andare a distinguere le masse tra due buchi neri e che tra loro quindi interagiscono prevalentemente tramite forza gravitazionale quella è l'altra domanda che mi avevi fatto interagiscono prevalentemente tramite la forza gravitazionale non c'è un trasferimento di di massa da da un buco nero all'altro perché i buchi neri sono costituiti da un orizzonte degli eventi tutto ciò che è dentro questo orizzonte degli eventi non può uscire e andare in un altro buco nero rimane lì dentro quindi interagiscono tramite la forza gravitazionale e poi il materiale che c'è intorno questi due buchi neri che girano uno intorno all'altro forma il segnale di luce a raggi X che noi osserviamo ma che tipo di moto c'è tra i due buchi neri c'è comunque sempre littico questa è una buona domanda nel senso che anche lì abbiamo assunto che sia molto semplice quello che fanno gli scienziati è quando non quando le cose sono molto complicate uno fa delle approssimazioni e diciamo si aspetta che la realtà non sia tanto diversa dall'approssimazione che uno fa in questo caso avendo assunto orbite chepleriane per usare la terza legge di cheplero dobbiamo utilizzare orbite chepleriane che sono appunto ellittiche addirittura noi abbiamo assunte circolari proprio per semplicità estrema perché anche lì se l'orbita ellittica mi devi dire quanto è schiacciata rispetto a un cerchio e anche quello non siamo in grado di dirlo quindi abbiamo assunto orbite circolari masse uguali tra due buchi neri e da lì abbiamo effettuato i nostri calcoli che sono qualche centesimo di parsec di distanza tra loro grazie grazie la prossima domanda è ma se ce ne sono tanti di questi buchi neri super massicci nel nostro universo e se sì perché è così difficile trovarli allora intendi i buchi neri super massicci in generale o binari binari cioè quelli di cui si è occupato lei no perché i buchi neri super massicci sono in quasi tutte le galassie quindi sono tantissimi tante quante sono le galassie buchi neri super massicci binari è un'ottima domanda ed è un argomento di studio molto inflazionato diciamo nel senso che ci lavorano tantissimi scienziati a cercare sia teorici che osservativi a cercare di capire quanto questo evento è frequente ovviamente non lo sappiamo ed è quello che rende questi oggetti così interessanti perché sono difficili da vedere e di conseguenza trovarne uno come abbiamo fatto noi non non dà un'indicazione di quanti ce ne siano è vero noi l'abbiamo trovato uno tra 500 quindi la cosa potrebbe suggerire che non siano così abbondanti come in realtà si pensa probabilmente non lo sono era un evento che era molto frequente all'inizio all'inizio dei tempi quando l'universo era molto più piccolo i buchi neri erano molto più vicini e quindi si si scontravano molto più frequentemente tra loro mentre adesso essendo un evento raro non è non è detto che sia altrettanto frequente anche se è un evento molto lento cioè da quando due galassie si toccano a quando i due buchi neri si agganciano tra virgolette passano miliardi di anni forse qualche centinaio di milioni quindi comunque essendo un evento molto lento è possibile che si possa osservare per tanto tempo e quindi che non sia poi così raro il problema è che comunque sono difficili da vedere quindi al momento non siamo in grado di dare una statistica soddisfacente sulla frequenza di 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 questo fenomeno grazie ora vorrei porle l'ultima domanda di che cosa si è occupato lei in questo studio allora cioè nel senso io personalmente oppure ah ok io io beh ho fatto la l'analisi dei dati X li ho scaricati da dal sito della NASA in cui ci sono tutti questi questi dati poi ho lavorato con dei programmi che si occupano di analisi dati programmi che ho scritto io che analizzano la presenza di periodicità o meno di segnale è stato un lavoro molto lungo perché poi comunque non non è non è un lavoro che si fa mentre si fa la pasta diciamo ci è voluto un anno e mezzo e un un lavoro di di squadra diciamo molto molto consistente è stato un 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 bel lavoro eh l'analisi dati sostanzialmente si tratta di costruire dei programmi che effettuano dei diciamo delle che fanno delle cose su sul sui segnali crudiche che noi otteniamo dal satellite nel nostro caso si trattava di cercare la periodicità con dei dei sistemi di analisi noti da da tanti anni dalla matematica e eh ottenere poi dopo l'elenco delle sorgenti che soddisfacevano determinati requisiti questo quello di cui mi sono occupato io grazie mille per questa intervista davvero interessante e la ringrazio davvero del suo tempo grazie arrivederci arrivederci